mettetevi comodi confortevoli fate un bel respiro e quando ispirate rilassate completamente il vostro corpo rilassati completamente istantaneamente abbandonato tutti i muscoli rilassati istantaneamente fatto un secondo respiro e calmate la vostra mente portate in uno stato di calma di pace e di concentrazione assoluta per il momento concentratevi sulla mia voce lasciate entrare dentro di voi la mia voce e focalizzatevi esattamente su quello che vi dico fate un terzo respiro e mentre ispirate sentitevi magnificamente piacere sentite tutto il piacere che potete provare in questo momento e sentite che raddoppia automaticamente infatti provate a resistere al piacere senza che il piacere raddoppia piacere 10 9 rilassatevi due volte più a fondo 8 lasciate che i numeri scompaiano mentre siete nella vostra vacanza ideale nel vostro luogo di rilassamento ideale può essere qualsiasi cosa può essere una spiaggia come può essere il vostro letto in un posto protetto sicuro di rilassamento perfetto per voi potete esserci stati o potete semplicemente immaginarlo può essere una sedia sulla luna come un luogo in riva al mare dove volete voi dove siete più rilassati abbandonati completamente totalmente e da questo posto di rilassamento spostatevi finché arrivate nel posto ideale entrate nel vostro diciamo tempo interiore un posto dove c'è questo stargate e c'è il guardiano o i guardiani potrebbero essere anche più di uno potrebbe essere in qualsiasi forma dimensione potrebbe essere un animale benefico potrebbe essere qualcosa di immaginario come si presenta a voi il vostro inconscio non importa come comunque si presenti ringraziatelo per quello che fa per voi armonizzatevi con la vostra mente inconscia salutatela ringraziatela per tutto quello che fa entrate in armonia con la vostra mente e ditegli potete adesso questo punto questo livello programmare la vostra mente positivamente quindi ditegli quello che volete fare in questo caso per questo processo specifico ditegli che quello che volete lasciare andare e adesso guardate verso lo stargate guardate quello che volete lasciare andare notate che cosa c'è comunque di positivo cosa avete imparato da quello che volete lasciare andare comunque se va insegnato qualcosa se c'è qualcosa di positivo e tenetelo poi prendete quello che volete lasciare andare rapidissimamente come un puntino luminoso lo fate andare oltre lo stargate finché all'infinito ed ecco che di colpo 3 2 1 torna dentro di voi ma è positivo è stato completamente invertito e cambiato e trasformato in qualcosa di positivo in un apprendimento di positivo in un dono per voi qualsiasi cosa sia per voi è all'interno di voi ed è completamente positiva molto bene ringraziate il guardiano e preparatevi a riemergere allo stato di veglia sarete ancora più svegli felici gioiosi come non siete mai stati in vita vostra contenti e felici al 3 aprite gli occhi sarete completamente svegli completamente sani felici e gioiosi 1 2 3 aprite gli occhi completamente sani felici contenti gioiosi 4 5 continuate a salire siete più felici più svegli di quanto siete stati in vita vostra 8 9 10 100 mille molto più svegli molto più felici molto più presenti qui è ora 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 Grazie a tutti